A critico sulla moda ci faceva tremare, noi eravamo giovani design, fashion style, chiamateci come volete e dietro le quinte della moda, delle grandi sibilate di moda, lei arrivava col suo occhio critico lungo, occhio lungo, bello, manlungato e faceva tremare perché il giorno dopo c'era la pagella, la pagella sul giornale o su un quote televisivo e tremavamo e lei ha cambiato veramente la percezione e il giudizio di moda, perché? Perché il suo rattagliente, moderno, incisivo quindi per me averla qui nella mia valle dove abito ormai con la pandemia da un anno e mezzo è un onore grandissimo è un onore grandissimo, veramente con grande affetto presentarla a tutti voi, grazie di essere qui Grazie Anna e grazie a tutti voi, sono felice di essere venuta, di aver accettato questo appuntamento perché credo che la moda sia un universo davvero molto poco indagato e poco conosciuto dal grande pubblico la gente si ferma un po' ai lustrini, alle paillette, ma dietro quella bellezza, dietro tutto quello c'è un lavoro pazzesco che appunto significa occupazione per centinaia di migliaia di persone ma significa anche esprimere un linguaggio, che è il linguaggio del corpo significa raccontare la contemporaneità e lo si fa attraverso un vestito in fondo quando noi ci vestiamo, scegliamo una mise, diamo o vogliamo dare di noi un'immagine precisa che sia un'immagine più seria o più frivola, ma comunque la moda è un po' un biglietto da visita che ci rappresenta e che sicuramente fa sognare chi guarda purtroppo il Covid ha costituito uno tsunami per questo settore moltissime saracinesche sono state abbassate, moltissime aziende sono state chiuse è inutile pensare che tutto quello che c'è stato potrà essere riproposto perché è difficile pensare che si possa ritornare a quegli eventi colossali che la moda ha proposto negli anni 80 e 90 diciamo che io ho avuto la fortuna di cominciare a occuparmi di moda sapendo, occupandomi di tutt'altro prima appunto tanto è vero che mi domandavo che cosa mai avrei potuto raccontare occupandomi di moda perché non è che mi interessasse molto invece poi mi sono accorta che era un mondo assolutamente straordinario soprattutto perché raccontava quello che noi siamo e i cambiamenti che noi in qualche modo rappresentiamo raccontiamo attraverso il nostro vestito attraverso la scelta di quello che indossiamo raccontiamo chi siamo ed è evidente che penso che la moda così come il cinema è forse l'unico settore che ci può portare in un altrove molto pieno di sogni non è un caso che io abbia scelto quando ho pensato alla struttura di questo libro abbia scelto di dare ad ogni capitolo di questo libro il titolo di un film perché secondo me il film in fondo racconta assolutamente la contemporaneità per cui la grande bellezza per cui il sipario strappato che è l'ultimo capitolo perché secondo me questo sipario straordinario è stato strappato oppure la finestra sul cortile sempre un film di Hitchcock la grande bellezza perché appunto le modelle cioè è molto cambiato il concetto di bellezza è cambiato radicalmente profondamente se voi pensate a che cosa sono state le bellissime il fenomeno creato da Gianni Versace delle top model oggi si parla di inclusività perché? Perché in realtà la bellezza appartiene e risponde a dei canoni diversi quindi tutto sta cambiando e forse anche noi dovremo adeguarci a questo cambiamento e raccontarlo questo cambiamento viverlo questo cambiamento comunque io non vorrei fare un monologo quindi sono assolutamente pronta a rispondere a tutte le vostre domande se ne avete se no appunto me le fai tu perché penso che sia importante capire dove stiamo andando perché è inutile negarlo ma c'è una disaffezione dei consumatori rispetto agli acquisti di moda una ragione ci deve essere se i consumatori si sono stancati rispetto a tutti